e vi volevamo aggiornare della nostra situazione, sono due giorni che siamo qui due notte diciamo che la seconda notte l'abbiamo passata molto bene perché la prima a Iampanino non ho mai dormito ma in realtà abbiamo dormito tutti molto poco tranne Jeremias e Ignazio che sapete sono due sassi dormono sempre e niente, siamo molto bene, diciamo che la Sicilia ci piace io mi trasferisco qui, no a Milazzo tu, lo lasciamo a Milazzo lui, non rientra a Milano ecco a Milano ma a Milazzo vi faccio vedere ancora un pochino e poi ci spostiamo che equilibrio, che ultimamente a Rione, ciao Grazie a tutti Allora capitano dove andiamo oggi? BAMAS BAMAS Allora oggi BAMAS è stato dormito per chiudere Policcio e quindi fare inserire passare in fronte non possiamo non passare in fronte oggi purtroppo sono liberi c'è una frontezza bellissima ed è purtroppo un'altra latina è molto meglio ma ok 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 un po' un po' di aggiornamenti le mie pazzie le mie fallie però devo dire che mi sto oltre divertendo e rilassando tantissimo mangiando tantissimo anche ma vi faccio i complimenti a profitto per fare i complimenti siciliano perché oltre a cucinare bene avere un posto meraviglioso siete delle persone bravissime molto educate molto rispettose e niente stiamo per andare a cena e a festeggiare perché oggi in argentina il 20 luglio il giorno dell'amicizia quindi faccio un saluto a tutti i miei amici e vi invito anche a festeggiare con i vostri i miei amici i miei amici il primo è che questo brindis si si certo questo brindis è andato secondo giorno possiamo fare un bilancio tra alcuni è il terzo tra alcuni è il secondo facciamo una media un due e mezzo di bilancio ma che pallido è andato è lo so troppo lungo però siccome io ho aspettato questo brindis è lo aspettatemi che lo faccio quanto tempo c'hai le storie? quanto possono durare? va tutto bene sono un po' prolisso però benissimo sta andando tutto bene in questo... il dono della sintesi non ce l'ho per niente più fai così è più continuo bravo Pani bravissimo salute ottimo brindis i pari il cannole amore è arrivato il cannole vediamo per chi è mi ha aspettato ho visto che tu ti avevate qualcosa per lei niente io solo grazie niente cannolo per noi assolutamente